In rete già trovate la prima parte per la lavorazione di questo cestino multiuso. Io ho usato un comune spago da cucina bianco mentre per i sottobicchieri della rafia colorata sintetica. I sottobicchieri hanno lo stesso diametro del fondo del cestino. In questa seconda parte andiamo a lavorare per la parte alta e andiamo ad usare un punto un pochino diverso dalla maglia bassa. E' sempre una maglia bassa ma lavorata in modo differente. Vedete dalle immagini le svariate collocazioni che il nostro cestino può avere. Riprendiamo la nostra lavorazione esattamente da dove abbiamo lasciato. Terminato tutto il fondo adesso senza fare più aumenti andremo a lavorare un giro di maglia bassa in costa punto su punto. Allunghiamo leggermente la solina. Entriamo solo nella costina di dietro del punto basso. vedete che sopra abbiamo una catanella composta da due asoline. Noi entreremo solo nella costina retro del punto. Estraiamo il filo e lavoriamo la nostra maglia. Andiamo nel punto successivo. Prendiamo solo la costina posteriore e facciamo il nostro punto. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Terminato il nostro giro di maglia bassa in costa, la chiusura la effettuiamo come per tutto il fondo. Estraiamo il filo. Da dietro entriamo in tutte e due le asoline del punto. Andiamo a prendere la solina che abbiamo sfilato. Attenzione al filo che deve stare sulla sinistra. E lo facciamo uscire dal punto che dobbiamo chiudere. Rigiriamo il lavoro e andiamo adesso a lavorare il laterale in altezza del nostro progetto. Andremo a lavorare in questo modo. Vedete che il nostro punto basso è formato da due asoline nella parte superiore e una specie di V nella parte sottostante. Noi quando andiamo a lavorare il punto siamo soliti entrare qui sotto le due catenelle. Invece noi dovremo entrare adesso qui vedete qui in mezzo a questa V che si viene a formare tra una maglia e l'altra. Quindi allungo leggermente la solina. Non entro sotto le catenelle ma entro esattamente sotto il punto che ho sull'uncinetto. Estraggo il filo e chiudo la maglia bassa. Adesso non vedrete il punto di lavorazione ma fra qualche giro vi renderete conto che assomiglia molto al punto maglia fatto ai ferri. Quindi non entriamo sotto la catenella ma entriamo tra una maglia bassa e l'altra. Vedete che il buchino è diverso? Vedete? Noi non entriamo qui sotto le catenelle ma tra queste due asoline che sono Una è la chiusura del punto precedente e l'altra è l'apertura del punto seguente. Quindi entreremo esattamente al centro delle due maglie basse non sotto le catenelle. Io concludo il primo giro e la chiusura è sempre la stessa. Sfiliamo l'uncinetto, entriamo da dietro ed estraiamo il filo che abbiamo in sospeso. Se non vi riesce a lavorare questo punto lavorate semplicemente la maglia bassa nel moto classico che sapete fare. Ho terminato anche questo giro, stiamo lavorando l'ottavo giro per l'altezza del cestino e come l'ottavo andremo a lavorare fino al tredicesimo. Poi faremo un giro di archetti e il giro di rifinitura. Vado a chiudere il giro entrando nella V che crea la maglia bassa non sotto le catenelle allargo un pochettino vado a sfilare entro da dietro prendo il filo e lo vado a far uscire dal punto per chiudere il giro rivoltiamo il lavoro sempre dritto fronte a noi e riprendiamo la lavorazione un piccolo consiglio poiché il punto maglia tende molto a restringersi vi consiglio sempre di tenere una tensione del filo morbida e non stringere troppo i punti quando li andate a lavorare allungo la mia solina vedete adesso sono più visibili le V nelle quali punteremo l'uncinetto quindi entro nel primo punto e vado a cominciare la lavorazione del nono giro e continuo lavorando il punto maglia fino al tredicesimo ho terminato di lavorare l'altezza che a me serve vedete che l'aspetto è diverso dalla solda maglia bassa perché cambiando l'introduzione dell'uncinetto abbiamo effetti diversi del punto maglia in linea trovate già il tutorial sul canale questo è un portabottiglie basso che serve soltanto per portare in tavola le bottiglie oppure per tenere sistemati i sottobicchieri della presentazione i sottobicchieri sono fatti esattamente lavorando il fondo solo il fondo di questo piccolo cestino andiamo adesso a lavorare due giri di rifinitura il primo è un giro tutto di archetti vedete che ho già chiuso il giro vado a stringere la solina di chiusura giro nel caso in cui anche a voi si gira quando andate a chiudere raddrizzate la solina e ricominciate la vostra lavorazione andiamo a lavorare adesso con la maglia bassa normale quindi entriamo sotto le catenelle del punto lavoriamo il primo punto 5 catenelle di separazione per l'archetto 1 2 3 4 e 5 saltiamo 3 punti di base 1 2 e 3 questa volta andiamo a contare le catenelle di lavorazione del punto sottostante e nel quarto lavoro una maglia bassa quindi il giro lo abbiamo iniziato con maglia bassa lavorazione classica saltando 3 punti di base 1 2 e 3 nel quarto ho lavorato la maglia bassa di chiusura dell'archetto e continuo in questo modo per tutto il giro andiamo a chiudere il giro entrando nella maglia bassa di apertura chiudendo sempre allo stesso modo di tutta la lavorazione quindi entrando da dietro prendo la solina e la faccio passare attraverso il punto rivoltiamo il lavoro e lavoriamo l'ultimo giro diamo una catenella entriamo nell'archetto il primo e lavoriamo un punto basso quattro maglie alte all'interno dell'archetto stesso uno due tre e quattro chiudiamo la sequenza con un punto basso come all'inizio e ripetiamo una maglia bassa quattro maglie alte una maglia bassa in ogni archetto disponibile ho terminato anche il giro di ventaglietti ho chiuso con un punto bassissimo sulla catenella iniziale andrò poi a fermare il filo e questo è il risultato finale un cestino multiuso che potete usare in qualsiasi modo per portare le bottiglie in tavola per tenere in ordine i sottobicchieri come un piccolo svuotatasche da usare come un cestino involucro per cioccolatini caramelle confetti o qualsiasi cosa possa essere messa dentro spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento se non lo avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale lasciatemi un like e condividete io vi aspetto per i prossimi video a presto